verso la zona playoff ma che potrebbe anche rilanciare la pro Livorno Sorgenti autrice di Cooper Alex Certaldo Marcona l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza fase regionale con i giocatori di Ola inserimento di Lucarelli in area di rigore il cross, c'è Brunelli al break di Alino Rosi pallone per Quasi, una buona incursione sul settore di destra cross basso per Chiaramonti che non riesce a toccare un pallone semplicissimo proprio Signorini, col suo sinistro tagliato verso la porta, la palla in rete la palla in rete, ottimo l'impatto da parte di Lucarelli pallone laterale in zona offensiva con gonfiettini Chiaramonti che gira verso la porta e trova un po' impreparato Serafini il lavoro della Zenit pallone buono per Ciravegna che può calciare il suo destro a palla e colpisce la traversa sarà ancora angolo oltre ovviamente a Chiaramonti lunghi e Ciravegna, pallone lungo sul secondo palo per lunghi il destro al volo gran destro al volo poi Lucarelli il sinistro tagliato per Cutroneo che prova a girare verso la porta non trova che va all'attacco in contropiede con Calio sul settore di sinistra poi Marcon che potrebbe calciare il suo sinistro parato da Brunelli ancora Ciravegna buona la il duetto della Zenit ancora Ciravegna verso l'area di rigore e il pallone che esce di mezzo metro al lato del montante primo tempo anzi no finisce in questo momento la prima frazione sul risultato di 1 a 0 per la Pro Livorno sorgenti grazie al gol di Mattia Lucrelli all'undicesimo minuto di gioco sempre solo TV Prato canale 75 delle digitali terrestre in streaming su TV che cerca lo spunto il pallone è buono in area di rigore per quasi il destro la palla ribattuta attenzione a Ciravegna che viene steso forse da un avversario no va a terra ma non c'è fallo colpire per tirare attenzione ancora Ciravegna che si mette in luce in area di rigore il dribbings ecco la palla verso Chiara Monti il dribbings e poi la respinta clamorosa del portiere Monti che di testa prova a spizzare verso Ciravegna che arriva fortissimo ancora Ciravegna attenzione entra in area di rigore e nell'arbitro fa proseguire quando il contatto è evidente contatto evidente su Ciravegna la misteriosa intanto l'errore a parte di Marcone il destro di Rosi la palla che esce di un soffio emozioni emozioni nello spazio non c'è fuorigioco il cross è teso di Rosi verso Chiara Monti che può controllare il destro e alza la traiettoria e spreca un'occasione importante un'altra volta la Zenit per lì San Marco Avenza e tante maglie vestite in atto lo scontro calcio di rigore calcio di rigore per la Zenit con lo scontro fra Cavalli e chi è venuto di gioco del secondo tempo all'occasione dal dischetto di riportare in parità il match e ce la fa 1-1 tra Zenit Prato e Pro Livorno gran lancio per Rosi che mette giù il pallone il pallone verso Chiara Monti che sbaglia un controllo non difficile Ciravegna il suo destro Ciravegna e la parata di Serafini pallone centrale la tripice marcatura della Zenit poi Lunghi prova il destro la palla che esce di un soffio Lucchesi attenzione Lucchesi l'uscita di Brunelli che si salva il possibile rigore su Ciravegna non fischiato invece quello accordato a Chiaramonti come ha detto finisce qui fra Zenit Prato e Pro Livorno sorgenti non l'accolgo bene perché comunque pensavo che la squadra vista da domenica tutto cuoio oggi facesse una stessa prestazione invece siamo partiti forse un po' più timidi loro sono partiti molto bene hanno trovato il gol dopo due o tre corner due o tre chiazze piazzati noi si è reagito bene si è fatto traversa non siamo riusciti a farlo noi e il primo tempo mi sembrava una partita abbastanza equilibrata poi il secondo tempo abbiamo giocato solo noi i primi quarti d'ora la squadra ha fatto una grande prestazione una grande pressione fino al gol poi c'è mancato qualcosa per poterla chiudere cosa è mancato? qualcosa a livello fisico qualcosa a livello mentale forse la squadra si è un po' accontentata del pareggio? direi accontentata no perché io insomma ho cercato di fare anche per fargli capire tutto sono andato addirittura 4-2-4 con due esterne due punte per provare a cercare di vincere questa partita le occasioni le abbiamo avute poi logicamente un po' di stanchezza qualche giocatore ancora che non è al massimo nella condizione ci ha un po' condizionato peccato perché con una vittoria ci si metteva una posizione classifica sicuramente più interessante da morale poi un punto fatto qui è un buon punto perché affrontavamo una buona squadra una squadra che alla Ghi tratti ci ha messo anche un po' in difficoltà e abbiamo fatto un buon punto direi poi alla fine della partita penso che sia un punto un buon punto diciamo ecco un'ottima partenza la partita sulla squadra in primo quarto d'ora del primo tempo vediamo le cose positive vediamo le cose meno positive invece una grande sofferenza nel primo quarto d'ora del secondo tempo dove la ZD vi ha schiacciato sì siamo partiti molto bene loro ci aspettavano più bassi non ci venivano a prendere molto alti quindi avevamo un pochino più di facilità di palleggio per trovare un po' anche gli attaccanti davanti dopo il gol hanno un pochino alzato la pressione ci hanno messo quasi uomo contro uomo si faceva più fatica a uscire in palleggio e i dieci minuti del secondo tempo siamo stati molto in difficoltà poi dopo il gol su rigore la partita si è un po' assestata ci siamo un po' allungati tutte e due un po' grandissime occasioni non ce ne è stata né da una parte né da quell'altra però avevamo tutte e due questi contropiedi dove magari poteva sortire qualcosa di il gol che poteva dalla vittoria all'uno all'altra squadra all'unico